E anche oggi ci siamo amici di Milan TV, anche oggi una domenica della nostra vita. Suso, 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 non era posizionato Cali, dice allora Suso prosegue, Jack Bonave, Jack Bonave il tiro, reina in angolo, pericolo Jack, è partito forte Jack Bonave, la palla va in calzo in angolo. Suso contro Isai, Suso, Suso se ne va, Suso se ne va, Suso venti in mezzo, Cali, non siamo riusciti a fare gol. Attenzione, attenzione, questa è l'imbucata del Napoli, Mertel, solo davanti a Gigio, grande Gigio, via la palla, RR, attenzione, Insigne ha colto il nostro momento di sbarra, di sbandamento, la palla di Insigne è fuori, Insigne, 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 Insigne dentro per Amsic, solo davanti a Donnarumma, palla dentro per Insigne, attenzione ragazzi vi prego, Insigne, Insigne, para Gigio, gran giocata di Insigne, era difficilissima, lucidissimo sempre Giorginio, il colpo di testa, Filippo, miracolo di Gigio, miracolo di Gigio, enorme miracolo di Gigio. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti.